Tutto ciò che facciamo ha un effetto. Lo impariamo da bambini e ne diventiamo consapevoli crescendo. È così anche per Nova Mobili. Abbiamo capito subito che gli arredi hanno un impatto sulla vita delle persone e anche sulle risorse, sul paesaggio, sul benessere dei nostri collaboratori. Per questo nel tempo la nostra consapevolezza è diventata sostenibilità. Sostenibile è ciò che supera il passare del tempo. Come i marmi e le pietre, che offrono infinite possibilità espressive e tattili al nostro design. Marmo bianco di Carrara, grigio oriente e verde Guatemala, pietra lavica. Ogni lastra ha caratteristiche uniche, che dipendono dal luogo e dal tempo. Tagliati, fresati e lucidati ancora oggi a mano, i marmi e le pietre danno vita a oggetti preziosi, eterni, come le montagne e i vulcani da cui provengono. Se facciamo tutto questo, è perché vogliamo che le generazioni future possano continuare a godere del benessere, delle risorse naturali e della bellezza di cui abbiamo goduto noi. Se siamo sostenibili, è per il bene di tutti.